Io ringrazio per l'invito che mi è stato fatto e nonostante abbia ancora molti impegni, ma ho sentito tanta convinzione nella richiesta che ho accettato di venire in mezzo a voi per leggere insieme a voi Evangelii Gaudium nella prospettiva però di una Chiesa, di una comunità che sia davvero una comunione, una fraternità. Come d'altronde Papa Francesco continua a richiamare tutti i cristiani di tutte le Chiese perché realizzino la Chiesa come fraternità, non dimenticando che fraternità è un nome dato alla Chiesa nel Nuovo Testamento, è l'Apostolo Pietro che non usa mai la parola Chiesa ma parla di fraternità e quando parla delle Chiese parla delle fraternità sparse nel mondo perché la Chiesa come prima realtà è una fraternità perché raduna coloro che si dicono fratelli di Gesù Cristo e figli dell'unico Dio e Padre. Per mettere a fuoco questa prospettiva che mi è stata chiesta all'interno dell'Evangelii Gaudium dirò alcune cose brevi generali su questa esortazione apostolica del Papa e poi metteremo a fuoco il tema della Chiesa come comunione, come fraternità. Innanzitutto, Evangelii Gaudium, questa esortazione apostolica, è il primo documento magisteriale di Papa Francesco. È vero che lui aveva firmato prima all'enciclica la Lumen Fidei, ma come confessava Papa Francesco lui aveva ereditato da Papa Benedetto questa lettera non completata ma che Papa Benedetto voleva al termine del suo insegnamento avvenuto attraverso un'enciclica sulla carità l'amore, la seconda sulla speranza e quella sulla fede, ma che lui a causa delle dimissioni aveva potuto promulgare. Papa Francesco l'ha promulgata, non ha aggiunto molto di personale e quindi noi ci troviamo di fronte invece a Evangelii Gaudium come al primo documento veramente suo, un documento che ha fatto che per lui ha voluto essere e vuole ancora essere non solo il programma del suo pontificato, ma vuole essere il cammino della Chiesa nei prossimi anni. È una traccia sulla quale il Papa vuole che le Chiese camminino. Lo dice all'interno della lettera in maniera molto chiara, questa è una lettera che deve essere messa in pratica, che richiede una realizzazione da parte di tutti i fedeli e da parte delle varie chiese. Ma certamente noi ci troviamo di fronte a un testo che presenta notevoli novità rispetto al Magistero precedente. Perché? Perché vuole essere un documento che parla certamente dell'Evangelizzazione, ma in realtà traccia, a partire dall'Evangelizzazione, un nuovo volto della Chiesa. Se c'è un antecedente a questa Evangelii Gaudium, noi lo dobbiamo trovare nell'Evangelii Nunziandi di Paolo VI, l'enciclica di Paolo VI del 1975, quindi molti anni indietro. Ma non si ferma neanche a quella esortazione di Paolo VI. Va oltre e vuole soprattutto in questa lettera dire che la bellezza dell'amore del Signore, dell'amore di Dio, dà la salvezza. E quest'amore di Dio è stato manifestato in Cristo, morto e risorto. Questo è il centro dell'Evangelizzazione. Papa Francesco aveva partecipato al Sinodo sull'Evangelizzazione come padre sinodale. Un sinodo al quale io ho partecipato come esperto. E voi sapete che alla fine di ogni sinodo i padri sinodali presentano al Papa delle proposizioni, dei pensieri, delle acquisizioni, perché il Papa da quello tragga l'esortazione post-sinodale. Ebbene, in realtà dobbiamo dire che il Papa ha trasceso anche l'esortazione post-sinodale come era stata impostata dai padri. Ha voluto andare oltre. Per chiedere, lui dice, una conversione pastorale e missionaria a tutta la Chiesa, una conversione che non può lasciare le cose come stanno. Io vi citerò molto delle sue parole perché voglio esserne un eco fedele. Non voglio fare teologia o ecclesiologia a partire dall'Evangelii Gaudium. Voglio essere il più fedele e un eco schietta, mettendo in evidenza i punti forti che noi possiamo realizzare e che il Papa ci chiede di realizzare. Cosa significa che questa esortazione vuole una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno? Già l'espressione conversione pastorale, attenzione, può suonare molto strana per alcune orecchie. In realtà chi ha buona memoria sa che questa espressione è apparsa, e confesso si può confessare dopo tanti anni, ne sono io la causa e l'artefice, nel documento dell'Episcopato italiano annunciare il Vangelo in un mondo che cambia. Quella è esattamente per il decennale della Chiesa italiana all'inizio del secondo, del terzo millennio. Il Papa l'ha presa di là perché non è usuale conversione pastorale e aggiunto emissionaria per dire che lui vuole un vero cambiamento in quella che è la pastorale della Chiesa. L'azione dei pastori vista sia dalla parte dei pastori sia dalla parte del popolo di Dio che dai pastori è guidato ed è sostenuto. Il Papa vuole con questa lettera, questa esortazione, la chiameremo in maniere molto diverse, ma facciamo sempre riferimento all'Evangelii Gaudium, vuole davvero che sia qualcosa letto innanzitutto dal popolo cristiano. Non è un documento magisteriale difficile che è rivolto eventualmente agli operatori pastorali o ai teologi. Il Papa vuole che sia letto dalla gente più comune, dai cristiani che hanno magari poco bagaglio culturale, ma il Papa vuole che loro capiscano. vi farei un esempio così vi faccio sorridere, è bene sorridere all'inizio di una cosa così impegnativa. Un giorno il Papa mi dice, sai, sai mica che c'è un vescovo vicino a te il quale ha detto che questa lettera è una lettera per campesinos. Ho detto, ma non lo so. Mi ha detto, beh se lo vedi, digli che mi ha fatto un complimento, perché io volevo proprio fare una lettera che la capisca anche il contadino più semplice del Sud America, il campesinos. Quindi il Papa sa bene aver fatto una lettera semplice, con un tono che è davvero una conversazione paterna, buona e certamente con un linguaggio qualche volta performativo, qualche volta scuote. Noi cattolici abituati a un'eloquenza, quella del magistero, soprattutto papale, estremamente precisa, estremamente trattenuta. Il Papa invece, in questa esortazione, vuole davvero scuotere la gente. E alcune volte noi abbiamo delle espressioni che magari qualcuno non ama molto, ma che la gente invece può davvero capire. Ve ne dico qualcuna così capite l'andamento dell'enciclica. Dice, ci sono cristiani che sembrano avere uno stile da quaresima senza Pasqua. Torneremo poi su questo tema. Oppure, il confessionale non deve essere una sala di tortura, ma il luogo della misericordia del Signore. Anche questa è un'espressione un po' forte. L'altra, la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. E poi fa dei ripetuti inviti. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Non lasciamoci rubare la speranza. Non lasciamoci rubare la comunità. Non lasciamoci rubare l'ideale della fraternità. Non lasciamoci rubare la forza missionaria. Come vedete, è un linguaggio performativo, diretto, semplice. Qualcuno può darsi che lo giudichi magari un po' rozzo. All'interno poi di questa esortazione troviamo anche delle espressioni che sono care al Papa e che ormai, bisogna dirlo, la Chiesa ha recepito. Ma io vi dico che non sono poi così contento quando ripetono in maniera, oserei dire, forse non di adulazione, ma semplicemente per inerzia, certe formule del Papa. Ormai dappertutto c'è una Chiesa in uscita. Ormai dappertutto ci bisogna trovare le periferie. Il Papa un giorno mi ha detto, io non amo questi pappagalli. Bisognerebbe dirglielo a quelli che ripetono queste formule credendo magari di centrare la volontà del Papa e invece semplicemente ripeto uno slogan. È un documento poi, è la prima volta nella storia della Chiesa recente che un Papa cita il Magistero di soggetti inferiori a lui. Non si era mai visto. Il Papa citava o i papi precedenti o i concili o i santi padri della Chiesa. Basta. Invece il Papa cita diversi documenti degli episcopati. Ci sono ben 17 conferenze episcopali di cui il Papa cita il Magistero. Ma non solo. Arriva a citare addirittura un messaggio dell'azione cattolica italiana alla Chiesa e al Paese del 2011. Immaginatevi, nel momento in cui l'azione cattolica viveva anche una certa difficoltà nella Chiesa, proprio quel documento il Papa lo cita. E poi arriva a citare anche degli autori che certamente sono degli autori cattolici o almeno cristiani, ma che non erano mai stati citati in un documento pontificio. Tutti conoscete, o buona parte, il romanziere Bernanot, il famoso romanziere del diario di un curato di Campania, un romanziere francese del secolo scorso, il Cardinal Newman, il teologo de Lubac, il teologo Guardini. Insomma, effettivamente si presenta con queste grosse novità. infine, bisogna ancora dire che all'interno di questa esortazione molto lunga, molto lunga, 160 pagine, ripeto semplici, semplici, la può leggere qualunque cristiano, però indubbiamente uno snodarsi un po' faticoso, perché qualche volta il Papa riprende discorsi tralasciati, li amplifica, li ricorda di nuovo, per cui non è tanto facile, leggerla è facile, ma non è tanto facile a un certo punto fare dei riassunti, delle sintesi teologiche. Quello che io vorrei farvi questa sera, perché certamente non possiamo leggerla tutta, ci sono troppi temi e focalizzarla su alcuni temi che sono quelli più urgenti che mi avete indicato. In ogni caso, vi do almeno la trama di questa esortazione. Innanzitutto, una Chiesa gioiosa. È un primo punto molto importante e che stasera cercherò di sviluppare con voi. Una Chiesa gioiosa. Poi, una Chiesa in conversione è il secondo tema. Terzo tema. Terzo tema. Una Chiesa che pone al centro il Vangelo. Quarto punto. Una Chiesa evangelizzata per evangelizzare. Ancora, una Chiesa dei poveri e una Chiesa inclusiva di tutta l'umanità. E infine, una Chiesa che è capace di dialogo, dialogo ecumenico, dialogo interreligioso, dialogo con il mondo, l'umanità di oggi, contemporanea. Questo essenzialmente è lo schema e sono i punti teologici. Certo, quando c'è una Chiesa, per esempio, che evangelizza, se poi voi la leggete, ci sono almeno 35 pagine, quindi un bel malloppo cospicuo dedicato all'Omelia. E voi vi chiederete, ma perché in un'enciclica così? E il Papa che risponde e dice, perché la maggior parte dei cattolici ha soltanto l'Omelia come possibilità di ascoltare il Vangelo? Perché i cattolici continuano a leggere il Vangelo poco. L'assiduità diretta al testo biblico continua a mancare e la maggior parte dei cattolici ascoltano il Vangelo nell'Eucarestia Domenicale e la spiegazione dell'Omelia. Quindi la fonte della loro fede, il cibo per la loro fede è l'Omelia. Moimè, il Papa dice che sovente le Omelie sono lunghe, noiose e contengono poco Vangelo. D'altronde, voi sapete cosa diceva il romanziere francese citato dal Papa? Se volete vedere delle facce inespressive, guardate i fedeli durante un'Omelia. Il che è una preoccupazione per il Papa e allora dedica certamente una parte cospicua in cui dice come si deve preparare un'Omelia, come la si deve fare, ma questo riguarda essenzialmente i presbiteri, i vescovi e quindi non è certo un tema che noi trattiamo questa sera, che fissiamo invece lo sguardo sulle realtà, quelle di cui noi siamo soggetti, per le quali possiamo fare un cammino di conversione pastorale e missionaria e quindi delineare la Chiesa come ce la indica Papa Francesco. E allora non posso fare neanche tutti questi punti della Chiesa, ne scelgo alcuni. Il primo, una Chiesa gioiosa. Conosciamo bene i rimproveri che sono stati fatti a noi cristiani, soprattutto negli ultimi secoli, riguardo alla nostra incapacità di gioia, di letizia, di rallegrarci oggi nella storia e in mezzo agli uomini. Basterebbe citare una delle contestazioni mosse da Friedrich Nietzsche, quel visionario che all'inizio del secolo scorso diceva ai cristiani, cristiani, le vostre facce sono state per la vostra fede più dannose di tutte le vostre ragioni. Facce che non sorridono, facce che non sono gioiose, facce che fanno trasparire un cristianesimo della legge, facce non da uomini liberi ma da schiavi sotto il peso di regole e precetti. E Papa Francesco, attenzione, a particolare attenzione perché invece il cristianesimo sia gioioso. Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Un altro documento, Amoris Laetitia, la gioia dell'amore. Vedete che torna sempre col termine Gaudium, Laetitia, che sono tutti sinonimi di gioia, a insistere che la notizia è gioiosa. Questo è l'Evangelo, che Gesù Cristo deve portare la gioia là dove nasce la fede, là dove c'è la testimonianza. D'altronde molti pensatori hanno chiesto ai cristiani di essere coerenti con la gioia che annunciano. Tutti voi sapete che Evangelion in greco significa gioiosa notizia, un messaggio che dà gioia. Ma noi allora che siamo uomini e donne del Vangelo, dove la mostriamo questa gioia? Ne era molto consapevole Paolo VI, il quale fece un'enciclica, ma cadde, ve lo dico perché ero già ormai un cristiano maturo, cadde nel silenzio più assoluto. Nessuno sa che il Papa scrisse un'enciclica, Gaudete in Domino, la quale chiedeva ai cristiani di essere gioiosi, di mostrare la gioia, di essere convinti che il Vangelo è una gioiosa notizia. Papa Francesco riprende questa richiesta di Paolo VI con convinzione, anche perché lui è un cristiano gioioso. Attenzione, di una gioia che non è facile ottimismo, ma è la gioia che è generata dalla fede, generata dalla speranza, che è generata dal bene della carità. Così risuona all'inizio di questa esortazione. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di quelli che incontrano Gesù. La gioia nasce da un incontro, la gioia nasce da una relazione, dalla scoperta di un tesoro incalcolabile per avere il quale, come l'uomo della parabola, si è disposti a lasciare tutto, perché si percepisce che la propria vita e il senso della vita dipende proprio da quella scoperta. I profeti, quando si indirizzavano al popolo di Dio per annunciargli la venuta del Messia, lo invitavano alla gioia, perché la venuta di Dio è sempre liberazione, è pace, è giustizia per i poveri, per i credenti in Lui. Davanti a colui che viene, la comunità del Signore deve cantare, danzare, rallegrarsi. presto inizieremo il tempo dell'avvento, è un tempo della gioia, è un tempo della gioia. La Chiesa ha messo addirittura una domenica significativa, che è una domenica che si chiama Gaudete, rallegratevi perché il Signore è vicino. Ma noi siamo capaci di questa gioia? Quando noi leggiamo i Vangeli vediamo che la venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi, l'incarnazione, è stata una gioia. Maria è invitata dall'angelo a rallegrarsi, rallegrati Maria piena di grazia. Poi Maria si muove, rallegra Elisabetta, rallegra Giovanni che esulta nel seno della madre. E poi canta il magnifica che un canto di gioia, di esultanza. Insomma, questa gioia, che è la gioia del Cristo in mezzo a noi, è la gioia che deve accompagnare noi cristiani nella nostra presenza nel mondo. Francesco chiede questa stessa gioia ai cristiani di oggi, che sovente, dobbiamo dirlo, sembrano tristi, depresse, sotto il peso dei doveri e dei precetti, non nella gioia della libertà. Mi rincresce dirlo, ma noi cristiani non sembriamo vivere nello spazio della libertà e dell'amore. Sembriamo costretti a fare, costretti a comportarci. Non sappiamo lasciar scaturire in noi il bene dalla grazia, ma tutto è volontarismo, tutto sotto il peso della legge. E dimentichiamo che allora non siamo figli di Dio, ma siamo schiavi. Papa Francesco a questo proposito ripiglia delle parole di Papa Benedetto. Papa Benedetto aveva detto una cosa molto importante. All'inizio di ogni vita cristiana non c'è, non c'è una decisione etica, non c'è una grande idea, non c'è neanche la dottrina, ma c'è l'incontro personale, l'incontro con una persona che è Gesù Cristo, che dà vita a un nuovo orizzonte e che ci dà una direzione decisiva. Sono parole importanti, le capiamo oggi. Noi viviamo in una nuova situazione antropologica. È una rivoluzione iniziata negli anni Sessanta, ma che negli ultimi decenni è diventata una rivoluzione con una rapidità e una velocità, che chiede da noi di essere dei visionari, di guardare il domani, non più guardare l'oggi, perché altrimenti la storia sta fuggendo da noi. O la Chiesa riesce a leggere quelli che oggi hanno 15, 16, 20 anni, o la Chiesa ha finito, perde, perde il contatto con la storia. E le nuove generazioni ci stanno chiedendo un'altra visione delle cose. Chiedono che la vita umana abbia senso, trovi senso. E chiedono da noi cristiani che non predichiamo tanto dottrine o architetture teologiche, ma che mostriamo che vale la pena vivere come Cristo ha vissuto. Se noi non siamo capaci di mostrare che vale la pena vivere come Cristo ha vissuto, i giovani non ci seguiranno. Non sono l'etica che scuote il mondo di oggi, non è una dottrina, è qualcosa di esistenziale che deve avvenire nella carne, ama dire il Papa, nel corpo, mano o nella mano, occhio contro occhio, volto contro volto, non nell'astrattismo delle idee. Non sono solo finite le ideologie, è finita ogni architettura che non si verifica nello spessore della vita umana, del nostro corpo e della nostra carne. E' arrivato il vostro arcivescovo a cui va il mio saluto, la mia grande stima, grandissima stima verso di Lui e la ringrazio di essere presente. Essere evangelizzati dunque, essere evangelizzati significa essere portati ad abitare la gioia e solo allora evangelizzare sarà portare la gioia, permettendo allo Spirito Santo di innestarla in chi accoglie il Vangelo. La gioia, non dimenticatevi, è il dono del risorto. Nel quarto Vangelo Gesù lo dice, io tornerò a voi dopo la morte e vi darò la mia gioia. È la gioia il dono del risorto. E nello stesso tempo è il frutto dello Spirito. Per questo la gioia discende dal Signore risorto, raggiunge il cuore del cristiano, ma per essere diffusa, portata agli uomini e alle donne del nostro tempo. Se c'è la gioia, dice Papa Francesco, allora la Chiesa si accresce per attrazione, per attrazione e non per proselitismo. Evangelii Gaudium 14. Ma attenzione, è una citazione anche che questa di Benedetto XVI. Mi piace dirvi che molte cose che si pensano siano solo di Papa Francesco, in realtà sono già di Benedetto XVI e il Papa le ripiglia puntualmente. Quindi questa frase, la Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione, Benedetto XVI la disse nell'Omelia al santuario di Apparesida il 13 maggio del 2007. E la gioia viene moltiplicata ed è una gioia che raggiunge il cielo quando un peccatore addirittura si converte, perché Dio mostra la sua misericordia e la fa regnare. Papa Francesco ha questa convinzione, che d'altronde io ho sempre sottolineato con convinzione in tanti scritti, non so da quanti decenni, che la vita cristiana, se vera vita cristiana, come la vita di Gesù è una vita bella, buona, beata. Ricordatevi le tre B. È una vita bella perché Gesù ha fatto una vita bella. Una vita in cui aveva gli amici, in cui non è mai stato isolato, ha vissuto in comunità, non è mai stato preso dall'arsura del fare, aveva il tempo per contemplare, pregare e predicare. Ma nel Vangelo vedete un uomo che ha una piena umanità. Voi mi direte, sì è finito sulla croce, ma sapete quando uno trova una causa per cui vale la pena di morire, allora ha anche la ragione per vivere e Gesù questa ragione ce l'aveva ed era l'amore per Dio e per gli altri. Ma ha fatto anche una vita buona e questo l'abbiamo sempre sottolineato. Pietro dice negli atti passò facendo il bene. Ecco la vita buona. È una vita beata perché se c'è uno che è destinatario di quelle beatitudini, beato il povero, beato il mite, beato chi ha sete di giustizia, beato il misericordioso, è proprio lui e nessuno è degno come lui di essere il beato delle beatitudini. Ora la vita di Gesù noi dobbiamo rileggerla nei Vangeli e vedendo la vita bella, buona, beata, farne la vita del cristiano. Allora possiamo per attrazione far sì che la Chiesa si dilati, senza fare proselitismi, senza imporre la fede a nessuno. Secondo tassello, dopo una Chiesa gioiosa, una Chiesa in stato di conversione. A partire dal capitolo primo, Papa Francesco si sofferma su quell'annuncio del Vangelo così semplice. Convertitevi e credete al Vangelo. Il cristianesimo non è, non è soprattutto una dottrina, non è soprattutto un insieme di insegnamenti morali, non è neanche soprattutto un'esecuzione di riti, ma è l'incontro con l'umanità del Figlio di Dio, la parola fatta carne. È l'incontro con il Vangelo nel senso che il Vangelo è Gesù Cristo e Gesù Cristo è il Vangelo. Su questo, attenzione, bisogna essere estremamente chiare. Non basta dire Gesù, Gesù, Gesù Cristo, così come non basta dire Signore, Signore. Perché è facile che noi facciamo delle proiezioni e che fabbrichiamo un Cristo a nostra misura e secondo i nostri progetti. No, Gesù Cristo è il Vangelo e il Vangelo è solo Gesù Cristo. Solo da questa equazione chiara, netta, noi possiamo certamente vedere il fondamento della nostra fede. Gesù Cristo, ma è il Gesù Cristo dei Vangeli. Stiamo attenti su questo perché lo sappiamo ogni epoca storica cerca di fabbricare un Cristo a sua propria misura e dimensione. Non sto a farvi dell'attualizzazione. Tutti voi avete sentito di secolo in secolo applicare a Gesù Cristo tante etichette. No, il cristiano non applica nessuna etichetta. Prende il Gesù Cristo dai Vangeli e dice che quello è il Gesù Cristo fondamento della sua fede e fondamente della Chiesa. C'è un testo molto preciso. La Santa Scrittura è fonte dell'evangelizzazione. Pertanto bisogna formarsi continuamente all'ascolto del Vangelo. La Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la parola di Dio diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale. Anche qui Benedetto XVI diceva nella Verbum Domini, uno dei testi più importanti per la Chiesa sulla parola di Dio dopo la Costituzione conciliare, diceva attenzione, mettere le scritture, la parola di Dio al centro non significa mettere nella pastorale un'attività in più, un corso biblico, la lezione divina in più. Questo è sbagliato. Significa che tutto quel che facciamo deve dipendere dalla parola di Dio. Questa è la conversione pastorale. Non aggiungere delle nuove, se volete, pastorali, ma al cuore. E Francesco ribadisce. Egemonia, centralità, primato della parola di Dio, assoluta esigenza dell'ascolto. Una vera arte dice perché ascoltare è molto più che sentire. Evangelii Gaudium 171. La Chiesa è creatura verbi, cioè una creatura nata dalla parola, sempre in ascolto della parola, serva della parola, sotto l'autorità della parola di Dio. La prima qualità della Chiesa è quella di essere in ascolto, ecclesia audience. E il Papa ricorda perché la parola, il Vangelo, ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che una volta seminato cresce da sé anche quando l'agricoltore dorme. La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della parola, che è efficace nel suo modo proprio e in forme molto diverse, tali da sfuggire alle nostre previsioni e rompere tutti i nostri schemi pastorali. Parole del Papa, Evangelii Gaudium 22. Solo l'efficacia divina della parola può causare e chiamare alla conversione i singoli cristiani e le comunità. Conversione è una parola decisiva nell'esortazione del Papa, accostabile certamente ad altre espressioni, trasformazione missionaria, conversione ecclesiale, continua riforma, purificazione e rinnovamento. Papa Francesco vuole un concreto, reale mutamento di stile della Chiesa, una conversione profonda delle persone e delle istituzioni, una trasformazione dei cuori. Se ciò non avviene nella vita concreta della Chiesa, allora il rischio, parole del Papa, è quello di comunicare agli uomini e alle donne la verità su Dio e sull'essere umano, consegnando loro un falso Dio e una falsa umanità. Un parole dure, eh? Parole dure. Evangelii Gaudium 41. Secondo Papa Francesco questa conversione si attua realizzando, ecco la formula ripetuta troppo da Pappagalli, una Chiesa in uscita. Cioè, cosa significa una Chiesa in uscita? Non pigliamo questa formula a ripeterla. Noi sappiamo che la nostra Chiesa, nel 1500, quando l'uomo ha preso un'autonomia da lei, per varie ragioni si è spaventata. Quella paura l'ha accompagnato, perché primo ha preso distanza dalla Chiesa la politica, la polis, poi hanno preso la scienza, poi addirittura siamo arrivati alle frizioni quasi di una guerra tra il pensiero laico e quello della Chiesa. E la Chiesa certamente si è arroccata, ha avuto paura, qualche volta si è chiusa a cittadella. Il Concilio Vaticano II certamente ha voluto essere un'apertura della Chiesa, come diceva Papa Giovanni XXIII, occorreva abbattere i bastioni. I bastioni sono le torri della cinta della città, abbattere i bastioni e aprire le porte. La Chiesa l'ha fatto, ma ci sono certamente ancora resistenze, i mutamenti nella Chiesa non sono rapidi, non basta certamente qualche anno, ci vogliono più generazioni. E il Papa dice, con questa formula Chiesa un'uscita, che vuole una Chiesa non ossessionata dalla paura di sbagliare, non alla ricerca di false protezioni, non richiusa in una cittadella o in un ovile dove enorme abitudini fanno sentire tranquilli. Insomma, vi dico le parole del Papa, non voglio una Chiesa preoccupata di stare al centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedure. Non c'è nulla da dire. Sono le sue parole Evangelii Gaudium 49. Certo, questa immagine della Chiesa in uscita può essere presa e ripetuta come slogan. Se la si accoglie con intelligenza, dandole il contenuto biblico, io credo che allora vediamo una Chiesa che va verso gli uomini e le donne, che attendono segni e parole, capace di raccontare loro che l'amore è più forte della morte, che ci sarà una liberazione da tutto ciò che ci minaccia nella nostra vita. Una Chiesa con le porte aperte che non teme di sedere alla tavola dei peccatori, perché la Chiesa non è una cittadella in alto che guarda il mondo e dice ecco Sodoma, la Chiesa abita Sodoma, abita le città degli uomini, siamo in mezzo agli altri e non ci possiamo sognare un altro mondo se non quello in cui viviamo e in cui Dio ci ha fatto nascere. Questo è il mondo che Dio ha tanto amato da dare il suo unigenito figlio, ci dice il Vangelo di Giovanni. Non possiamo stare da una parte e stare lontani da quella che è la realtà. E il Papa lui preferisce, arriva a dire, capisco che qualcuno si sente ribullire il sangue, preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca a una Chiesa che si presenta in superficie invece sempre cristallina, adamantata ma fredda, una Chiesa che si ammira ma non la si ama, una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Evangelii Galion 49, non ho aggiunto una parola mia. E a proposito di Chiesa in uscita, vi cito una parabola che non c'è all'interno dell'Evangelii Gaudium, ma che il Papa qualche volta racconta quando sta con qualcuno in amicizia, non in situazioni ufficiali. Lui racconta questa parabola molto bella. Un uomo aveva cento pecore e ne perse una nel deserto. Accortosi della sua essenza, si interrogò e pensò che fosse bene rimanere con le altre 99 nell'ovile piuttosto che andarla a cercare lasciando le altre sole. E così, il giorno dopo, un'altra pecora si perse e lui fece lo stesso ragionamento. e così giorno dopo giorno restò nell'ovile il pastore e una pecora e le 99 si erano perso tutte. E il Papa dice sovente noi facciamo come quel pastore. Lasciamo che le pecore si perdono e non abbiamo il coraggio di andarle a ricercare e mettere nell'ovile. insomma, vedete che l'intenzione profonda del Papa qui è davvero quella di una Chiesa che sia la Chiesa di Gesù. Non so, io non voglio fare delle attualizzazioni. La mia formazione biblica mi fa diffidare. Allora torno a Gesù. Ma pensate bene. Era il figlio di Dio. Aveva un'autorevolezza che nessuno di noi si sogna di avere. E la sua comunità che è il fondamento di tutta la Chiesa successiva. Dodici della maggior parte erano persone talmente scialbe che non sappiamo neanche chi erano. Tutti sono fuggiti pieni di paura quando è stato arrestato. Tutti. Tutti. Uno ha rinnegato. Uno ha tradito. E quando Gesù poi si trovava sedeva con prostitute, peccatori, ai loro tavoli, ai loro banchetti. Ed era lì che manifestava cos'era la Chiesa. Non sono venuto per i giusti ma per i peccatori. Non sono venuto per i sani ma per i malati. Insomma, una Chiesa la quale, attenzione, non è una Chiesa sprovveduta. Non è una Chiesa che non vede il male. Non è una Chiesa con gli occhi bendati. Ma una Chiesa che fa l'esperienza che tutti noi facciamo fatica a vivere nell'amore di Dio e secondo l'amore di Dio e che cadiamo sovente. Siamo tutti con una pietra in mano e basta che Gesù ci dica scagliala se tu sei senza peccato che io e tutti voi lasciamo cadere la pietra perché nessuno di noi può pensare di tirare la pietra di una condanna a un altro. E allora cosa conclude il Papa? Ma anche qui lo dico ancora una volta con una certa polemica con quelli che dicono questo è Francesco. Conclude citando Benedetto XVI. Benedetto XVI aveva detto attenzione molto importante l'Eucarestia che Gesù ci ha donato non è un premio per cristiani perfetti non è una garanzia per cristiani osservanti ma è una medicina un viatico un cibo per i deboli l'aveva detto Papa Benedetto Benedetto lui lo ricita però attenzione questo è un magistero che significa un magistero ben convinto se due papi lo ripetono assumere lo stile del Vangelo riferirsi alla vita umanissima di Gesù perché è nella vita umana che Gesù ha raccontato Dio exeghesato con la sua vita umana mica con le idee ma con parole e fatti ha raccontato il padre ci dice Giovanni 1.18 questo significa essere discepoli di Gesù terzo punto una chiesa evangelizzata per evangelizzare soprattutto nel capitolo terzo il Papa parla di questo e Papa Francesco tratteggia alcuni punti della sua sollecitudine pastorale che danno al testo bisogna dirlo una certa disomogeneità però danno un messaggio eloquente con indicazioni pratiche precise io mi limito a mettere in risalto due punti in primo luogo chi è il soggetto dell'evangelizzazione abbiamo sempre detto tutti tutta la chiesa come popolo di Dio dal concilio in poi lo sappiamo tutta la chiesa evangelizza si diceva anche i laici non solo quelli che appartengono al corpo pastorale della chiesa cioè vescovi e presbiteri ma qui il papa va più a fondo l'evangelizzazione non è riservata a una componente della chiesa né può essere delegata a un gruppo particolare tutti i battezzati sono soggetti dell'evangelizzazione ma lascio la parola al papa soggetto dell'evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica quale è la chiesa poiché anzitutto soggetto dell'evangelizzazione è un popolo in cammino verso Dio si tratta di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino che evangelizza e questa evangelizzazione trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale Evangelii Gaudium 111 soggetto dell'annuncio del Vangelo e dunque ogni battezzato e questo viene detto con una forza nuova e inedita tutto il popolo non un gruppo non un elite non un movimento ma un popolo dai diversi volti provenienti da diverse culture un popolo lui dice plurale policromo multicolorato plasmato nella comunione dello spirito e nell'unità del corpo di Cristo la Chiesa non respira e non vive attraverso gruppetti di persone selezionate o che si scelgono attraverso comunità che si pensano elite spirituali autoreferenziali che sono segnate dall'autarchia esistenziale e dal culto del capo ma vive quando raduna dai crocicchi delle strade e delle periferie poveri deboli forti giusti e peccatori l'umanità questa umanità oggi venendo qui attraversando le vie di Napoli soprattutto la via dei tribunali vedevo quell'umanità è quella l'umanità che Dio ama e per la quale ha dato suo figlio non l'ha data per un gruppetto di monaci per un gruppetto di religiosi o per un movimento ma noi siamo al servizio del popolo di Dio della gente permettetemi di usare questa espressione in questo popolo tutti sono discepoli evangelizzati dunque tutti abilitati ad essere evangelizzatori e il Papa arriva a dire una cosa che veramente dovrà essere ben sviluppata dice che questo popolo è infallibile incredendo ma io sono cresciuto sapendo che l'infallibilità solo il Papa l'aveva lui dice che il popolo di Dio nella fede ha un fiuto lui si esprime così ha un fiuto che è infallibile arriva a dire anche qualora non ha gli strumenti linguistici per dire esattamente la fede pensate questo mi viene in mente quel che diceva Bonhoeffer avete presente Bonhoeffer il grande martire il quale diceva quando un pover uomo un mendicante un semplice contadino arriva a dire Gesù è buono fa una confessione di fede molto più grande di quella di un teologo che dice che è la seconda persona della Trinità Gesù è buono anche quando manca l'espressione il popolo è il fiuto ed è infallibile incredendo quindi la Chiesa deve saper chiamare tutti accogliere tutti nel suo grembo nutrirli della parola del Vangelo renderli capaci di annunciare ciò che essi per grazia hanno ricevuto la Chiesa è grembo della parola perché il cristiano da essa nutrito sia evangelizzatore la Chiesa è grembo di misericordia perché il cristiano la sperimenti e possa annunciarla agli altri la Chiesa è casa di comunione perché il cristiano sappia mostrare la comunione all'umanità la Chiesa è spazio di fraternità e amore reciproco perché il cristiano possa diffondere l'amore fra tutti i suoi fratelli in umanità proprio per questo il Papa dice la parrocchia di cui parla un intero paragrafo il 28 è il luogo che raccoglie i chiamati del Signore per farne degli evangelizzatori certo Papa Francesco privilegia la forma parrocchiale della vita ecclesiale perché è vero nella parrocchia le persone possono unire la loro vita quotidiana e familiare con la vita ecclesiale perché nella parrocchia la Chiesa incarna la sua vera immagine uomini e donne che non si scelgono che non si sono selezionati in base a qualche aspetto o qualche progetto perché nella parrocchia si può vivere l'esperienza ecclesiale dal battesimo fino alla morte in un tessuto ecclesiale magari qualche volta povero ma persistente collocata presso le case para oichia la parrocchia vive la prossimità senza esenzioni senza spirito elitario e tanto meno settario e per questo è il soggetto dell'annuncio nel quotidiano e duro mestiere umano del vivere e i movimenti ecclesiali le nuove comunità le aggregazioni non siano mai tentati di essere autoreferenziali da restare distanti dalla realtà viva della parrocchia e della chiesa locale siano soprattutto sottomesse al vescovo come tutte le realtà della chiesa e si incamminino su sentieri di comunione evitando ogni dinamica di una chiesa parallela il Papa su questo è molto duro e molto esigente lui dice soggetti privilegiati dell'evangelizzazione sono tutti battezzati con i propri doni col proprio grado di fede ma con questa grande dignità di essere fratelli di Gesù Cristo e figli di Dio la seconda indicazione molto di Papa Bergoglio in questo capitolo riguarda l'annuncio l'annuncio del Vangelo che viene indicato addirittura come Kerigma cioè messaggio fondamentale ma sentite come lo riassume il Papa parole sue Gesù Cristo ti ama ha dato la sua vita per te adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti rafforzarti rafforzarti e salvarti questo è ciò che va annunciato nient'altro nient'altro il cristianesimo è semplice è semplice è semplice l'annuncio è qualcosa di molto breve ma essenziale non troppe dottrine non troppe formule è che Dio è amore Gesù Cristo ci ama e ci sta al fianco e con la sua misericordia vuole salvarci insomma questo è quello che Papa Francesco vuol dirci ma di nuovo non è forse quello che chiedeva Benedetto XVI con l'operazione dell'ablazio quando è stato chiesto a Benedetto XVI che cosa più urgente bisogna la chiesa lui ha detto di una riforma come ablazio parola latina non spaventatevi è esattamente ciò che fa lo scultore che quando fa una statua fa saltare tutto il marmo finché appaia la forma che lui vuole ablazio buttar via tutto ciò che impedisce di vedere la forma la chiesa faccia ablazio si semplifichi semplifichi ciò che bisogna credere semplifichi ciò che bisogna vivere semplifichi la sua liturgia chieda ciò che davvero gli uomini di oggi sono capaci di ascoltare andando incontro loro con molta misericordia lo chiedeva Benedetto XVI 22 dicembre 2005 il papa lo fa suo infine una chiesa fraterna una chiesa fraterna fin dall'inizio del suo ministero Petrino papa Francesco ha manifestato il desiderio profondo che lo abita ah come vorrei una chiesa povera e per i poveri e l'udienza del 16 marzo del 13 tre giorni dopo la sua elezione poi più volte nel suo magistero ha insistito insiste sulla povertà come opzione necessaria per la chiesa e sui poveri non solo come primi destinatari del Vangelo ma come evangelizzatori avendo nella loro condizione è un magistero per i credenti ma certamente questa chiesa dei poveri questa chiesa povera deve far emergere una chiesa fraterna certamente non c'è un capitolo espressamente dedicato a questo tema non appare neanche la parola sinodalità attenzione nell'Evangelii Gaudium diventerà insistente nel Papa a partire dal sinodo sulla famiglia ma in quel tempo Papa Bergoglio non ha ancora certamente fatta questa grande rivelazione di una chiesa sinodale ma nell'esortazione sono presenti indicazioni che riguardano l'urgenza di una chiesa di comunione fraterna costruita vissuta sentita come comunità le parole fraternità e fratelli sono molto frequenti in questa esortazione del Papa e soprattutto cariche del messaggio evangelico noi cristiani non possiamo dimenticare che uno dei nomi dati alla chiesa lo dicevo all'inizio da Pietro nella sua prima lettera è fraternità a del fotess la chiesa è una fraternità e questa espressione è diventata molto frequente nella prima lettera di Clemente ai Corinti per indicare la chiesa perché la chiesa è innanzitutto una comunità di fratelli e sorelle come Gesù ha proclamato voi siete tutti i miei fratelli e il termine fratelli è anche quello con cui Gesù li ha chiamati inviando adesso le donne discepole con l'annuncio non temete andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea la chiesa descritta dagli atti come comunità nata dalle Pentecoste e nella sua natura una fraternità di battezzati aventi tutti la stessa dignità pur nella differenza dei doni ricevuti e dei servizi espletati fraternità che deve nutrirsi dell'amore chiesto da Gesù attraverso il comandamento nuovo amatevi gli uni gli altri all'elus fraternità in cui la reciprocità è sempre vissuta nella gratuità nella consapevolezza che il fratello ama il fratello perché prima è stato amato da Cristo è la fraternità dell'alleno l'un l'altro atteggiamento essenziale nella chiesa e in parallelo diventa essenziale che nella chiesa la comunione si espliciti con il syn il con il cristiano è uno che cammina con gli altri lavora con gli altri sente con gli altri soffre con gli altri si rallegra con gli altri chi conosce il nuovo testamento sa che è ossessivo in Paolo l'aggiungere questo sin prima dei verbi arriva addirittura a una follia dice noi cristiani siamo chiamati a morire insieme ad con moriendum e ad convivendum ma vivere insieme si può si direbbe morire insieme no anche morire insieme è la logica della fraternità di quello che poi il Papa espliciterà come sinodalità sinodo scamminate insieme se dunque la chiesa è fraterna vive un amore reale un amore che si manifesta e si fa sentire non vive di amore astratto ma di solidarietà comunicazione reciprocità certo con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in ciascuno come spirito di comunione nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco parla di Vangelo della fraternità quattro volte e chiede che non ci si lasci rubare l'ideale della fraternità Evangelii Gaudium 101 vuole che i cristiani non perdano il fascino della fraternità Evangelii Gaudium 179 devono sentire attraente la comunione fraterna Evangelii Gaudium 99 il Papa evoca addirittura l'immagine di una chiesa come carovana solidale in un santo pellegrinaggio dove tutti insieme si cammina per le strade del mondo condividendo le fatiche e le gioie e scrive sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica della fraternità mistica del mescolarci dell'incontrarci del prenderci in braccio dell'appoggiarci del partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità permettetemi di dire voi che avete questa città di Napoli così caotica siete quasi evocati qui può essere un'esperienza di fraternità non abbiatene a male è un luogo dove la fraternità può essere vissuta nel corpo nella carne reale e non astratta ecco la fraternità concreta contro ogni individualismo morboso Evangelii Gaudium 88 fraternità vissuta col corpo ancora dice lui in un costante corpo a corpo quando il volto incontra un altro volto la mano stringe l'altra mano in una rivoluzione della tenerezza è un'altra parola cara a lui la rivoluzione della tenerezza in questa esortazione come in altri interventi del Papa la fraternità è Cristo nella carne è Cristo nei fratelli e nelle sorelle il Papa chiama i poveri la carne di Cristo chiama i malati la carne di Cristo chiama gli esclusi della terra la carne di Cristo certo si scopre Cristo nel volto degli altri nella loro voce nella loro richiesta si scopre Dio in ogni essere umano perché non vi è esperienza autentica di Dio all'infuori di un'esperienza di umanità pensate questa parola non vi è esperienza di Dio all'infuori di un'esperienza di umanità fa impressione un'affermazione così ve lo dice un monaco che tante volte ha sentito il Quereredeum come il cercare Dio bisognava abbandonare l'umano il corpo la carne Papa Francesco ci dice senza corpo senza carne non c'è esperienza di Dio non c'è salvezza perciò nella fraternità cristiana che la Chiesa tutti devono essere ascoltati ne hanno diritto perché la Chiesa come popolo di Dio in cammino raduna uomini e donne che grazie all'unzione hanno quell'istinto della fede quel sensus fidei che li rende addirittura partecipi del grande dono del non sbagliare dell'infallibilità nel credere tutti anche i più semplici anche i più semplici anche quelli che non hanno strumenti per l'eloquenza dice il Papa al 119 una Chiesa come quella che vuole il Papa sarà ma qui sto andando oltre Evangelii Gaudium sarà sinodale capace di far cammino insieme insieme al Papa Vescovi Presbiteri fino all'ultimo fedele dicevano i pagani dei primi cristiani guarda quanto si amano dice Tertulliano ed è per questo che i pagani si convertivano non per altro perché a livello intellettuale con la loro filosofia ereditata dai greci erano certamente nel pensiero estremamente più raffinati dei cristiani ma ciò che ha convertito il Mediterraneo era l'amore che i cristiani avevano e vivevano l'un l'altro e verso i più poveri e allora ecco la necessità di guardare a una Chiesa fraterna e così gli altri punti certamente non li svolgo una Chiesa in dialogo non possiamo per voi credo secondo le indicazioni che mi hanno dato era di mettere a fuoco ciò che una comunità come la vostra una Chiesa può fare concludo con un piccolo riferimento alle parole del Papa il Papa dice sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico ed ha le conseguenze importanti desidero indirizzarmi a tutti i cristiani per indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni paragrafo 1 e dice perché bisogna camminare insieme questa è la via costitutiva della Chiesa è la cifra è la cifra che dobbiamo interpretare è la realtà è la condizione perché noi possiamo essere Chiesa se questo era chiaro quando il Papa ha incontrato la Chiesa a Firenze ha detto permettetemi solo di lasciarvi un'indicazione per i prossimi anni in ogni comunità in ogni parrocchia in ogni diocesi in ogni regione cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento dell'Evangelii Gaudium per per trarre da questa esortazione i criteri pratici e attuare le sue disposizioni sono necessarie sono priorità assolute questo alla Chiesa italiana radunata a Firenze ma il Cardinal Bassetti Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dieci giorni fa ha rilasciato un'intervista in cui ha confidato per ben tre volte durante udienze personali il Papa mi ha chiesto ma l'Evangelii Gaudium sta entrando nella Chiesa italiana una domanda imbarazzante dice Bassetti ho risposto un pochino ecco questo per dirvi come al Papa sta a cuore e come la responsabilità è di ciascuno di noi l'Evangelii Gaudium non chiede grandi cose alle Chiese locali non chiede neanche delle riforme istituzionali chiede una conversione di ciascuno di noi a una Chiesa gioiosa a una Chiesa con al centro la parola di Dio a una Chiesa inclusiva che sappia davvero accogliere tutti una Chiesa fraterna queste sono le indicazioni grazie dell'ascolto applausi applausi sto seduto perché sono un po' più vecchio no sono più vecchio io di due mesi finché sono due mesi mettete una sedia qui per favore no ma non c'è non c'è di sotto sì è doveroso ma sentito profondo sincero ringraziamento per quello che hai detto e come lo hai detto perché qui è fede risulta fede viva non fides coerens intelletum ma fides coerens humanitas humanitatel di un qualcosa che scende che diventa appunto carne incarnata questa fede nei luoghi nei tempi nella storia nella quotidianità di ogni giorno e devo ringraziare anche il nostro il nostro ufficio il nostro vicario episcopale ma l'ufficio che fin dal primo momento dice noi questa evangelica audium la dobbiamo tutta una preparazione fatta attraverso gli incontri anche delle aggregazioni laicali eccetera e poi mi dicono qui l'unico che ci può far capire va bene chiamiamo chiamiamo e e da quello che ho potuto ascoltare mi dispiace che non tutto fin dall'inizio ma veramente da maestro non maestro di cattedra maestro di vita di spiritualità maestro di vita vissuta di fede vissuta quindi ringrazio ringrazio per tutto questo io non non è che concludo non concludo perché qui ogni avvenimento poi diventa propedeutico a un cammino ulteriore da fare noi assorbiamo tutto quello che riceviamo e poi non lo chiudiamo ma lo dobbiamo continuare riflessione che vi confido una cosa che così anche personale quando è uscito Evangelii Gaudium Gaudium c'erano sempre Evangelii Gaudium come la teologia e in realtà è proprio questo aggettivo che condensa la più bella teologia esistenziale reale di un vissuto di un popolo di una chiesa che vuole riscoprire le origini e le fondamenta della propria fede il Gaudium la gioia la letizia di essere possessori di questa bella notizia ma anche la responsabilità di tramandarla tramandarla manifestarla annunziarla dice è penetrato l'Evangelii Gaudium un pochino ora che vedo l'amico Bassetti ma tu che ne sai che ne sai perché le cose poi sono sempre più di quello che uno può pensare ecco l'esempio nostro ma non perché ma ce ne saranno di grandi come no sta penetrando i come è sentita è vissuta è vissuta perché la riscoperta della gioia della propria fede della propria testimonianza andava focalizzata andava detto io da qualche anno parlavo oggi non ci sono eresie ma se ci sono subenisse ma un'eresia c'è ed è l'eresia della paura abbiamo eresia della paura abbiamo paura di manifestare quello che siamo abbiamo paura di confessare quello in cui crediamo abbiamo paura di anche di una cultura che che attacca alle volte che è quasi un ritirarci ecco anche nelle nostre chiese abbiamo paura di uscire di uscire nel senso vero abbiamo paura ecco di di prendere iniziative nel senso di testimoniare e incarnare la carità facevo l'esempio quando abbiamo fatto il giubileo l'occasione del decimo anniversario del grande giubileo di Giovanni Paolo e nacque così nacque come ricordiamo i dieci anni facciamo un giorno due giorni sì ma poi finisce lì allora un anno e qual è stata la mia sorpresa di tanti quando ci abbiamo bussato per dire abbiamo una finalità comune per la nostra città agli atei ai materialisti agli professionisti ai lavoratori una risposta che è andata molto superiore a quello che ci aspettavamo anche quando ho riunito il rettore delle università a casa per dire senti e dice ma cardinale due siamo atei e che le sono fatte le due noi abbiamo in comune il bene dei giovani dell'educazione della formazione questo ci unisce e quindi mettiamoci insieme per dobbiamo vincere quel senso di inferiorità che tante volte comprime anche la nostra stessa testimonianza noi non dobbiamo non abbiate paura ma perché ma non perché siamo noi che abbiamo chissà quale ma perché noi siamo Cristo rappresentiamo Cristo noi siamo cristiani e Cristo non ha avuto paura neanche della morte neanche della morte allora non so se in qualche maniera si può interditare questo evangelicale che poi bellissimo hai fatto molto bene a sottolineare questa continuità nella diversità da Francesco e Ratzinger ma io andrei anche prima Giovanni Paolo II perché le tante aperture le tante ma Dio che ricchezza avete ricordato Giovanni Paolo II io avete detto un padre ave gloria sì ma le volte noi troviamo le fonte tu poi sei oltre che un grande scritturista o biblista sei anche un grande patrista noi abbiamo intitolato qualche anno fa una lettera pastorale alzati e cammina alza cammina canta e cammina il senso dell'essere insieme l'assemblea l'eclesia però non basta essere ecclesia bisogna anche avere il coraggio appunto di cantare insieme la gioia della fe perché è insieme che si fa il coro e lì saranno vorisolisti ma è l'insieme che ci identifica come chiesa di Cristo nella gioia canta lui l'ha detto tante volte quando lo disse alle monache avete sempre quel volto così o il predo non le monache di Napoli che lo fece ricordi quando è venuto no il volto la testimonianza la più vera la più autentica alle volte è quella senza parole è solo guardare in faccia il cristiano che sta in una fabbrica il professore che insegna il medico e fa un sorriso e lo fa per rispecchiare la gioia della propria vita è l'omenia più bella che anche un cardinale può fare perché il cardinale normalmente non sanno fare omenia però forse questi gesti queste realtà così concrete sì questo è alla portata di tutti e alla portata di tutti e allora direi un po' come frutto di quello che ci ha detto adesso il nostro maestro riprendiamo il nostro cammino insieme e cantando che significa insieme che vive la gioia della fede nella testimonianza della carità per essere degli autentici appunto testimoni in un mondo che non è allegro non è felice non è felice ecco Tertulliano diceva la chiesa come ha convertito guardate come siamo guardate i cristiani di oggi come sono sereni tranquilli felici questo forse il mezzo oggi migliore di trasmettere anche la nostra fede io ti ringrazio ti ringrazio perché come sempre lui è maestro maestro pure dei cardinali e forse pure del papo non lo diciamo ad alta voce è maestro e noi faremo tesoro perché con questa lezione lezione nel senso buono testimonianza ecco ci darà forza per continuare anche nel nostro cammino di cantare e camminare insieme col Signore grazie Patrizio